Il successo è arrivato subito, e con esso i soldi, ma questi non hanno cambiato Cristiano Da sempre amorevole e dedito alla famiglia, ha avuto una vita molto travagliata. Perde il padre, Giuseadini Saveiro, giardiniere di mestiere, all'età di 20 anni a causa di problemi con l'alcol, e a seguito di questo lutto scopre, che il fratello maggiore Ugo, ex tossicodipendente, è ricaduto nella droga Questa volta Cristiano non rimane inerme e gli paga un centro di recupero per disintossicarsi. Da quel M-O-M-E-N-T-O-O si dedica alla pittura mentre la sorella Elma apre a Funca alla Bautique CR7, proprio in onore del fratello L'altra sorella Katia è una cantante. Il pallone d'oro però non è solo un amorevole fratello che si prende cura della famiglia, ma un padre esemplare per i suoi figli Il primo genito, Cristiano Junior ha otto anni e il fuoriclasse non ha M-A-I voluto rivelare l'identità della madre La gente specula sul fatto che all'epoca frequentassi questa o quella ragazza, o che si è ricorso a una madre surrogata Ma non ho detto a nessuno la verità, e mai lo F-A-R-O con accento grave Quando mio F-I-G-L-I-O sarà cresciuto, gli racconterò quello che ho fatto così ha giustificato la scelta di tenere questo segreto Per il settimo compleanno di Cristiano Ilunga R-Cr7 ha deciso di voler regalare al figlio un fratellino, e una sorellina Eva e Matteo, nati a quanto pare da una madre surrogata Poi finalmente nel 2016 arriva anche per Cristiano l'amore. Georgina Rodriguez? In nove anni di differenza solo solo un numero, la coppia è molto affietata e nel 2017 hanno avuto una quarta bambina Alana Martina Oggi Georgina fa la mamma a tempo pieno aiutata di A-Maria Dolores Dos Santos Aveiro, la mamma del calciatore, virgola e tutti insieme supportano il grande calciatore coronando il suo sogno di avere una famiglia felice ed essere per i suoi figli un padre migliore di quello che lui ha avuto Potocredits Instagram